Ben tornati alla nottola di Minerva e questa volta parliamo di Habu Hamid Mohammed Ben Mohammed Al-Tusi detto Al-Ghazali e della sua opera L'incoerenza dei filosofi e la rivivificazione delle scienze religiose. Ora abitualmente leggo anche il titolo originale ma finché si tratta di inglese, francese e tedesco ci arrivo. L'arabo nonostante abbia tentato in gioventù a impararlo e mi sono fermato all'ottava lezione perché insomma era abbastanza impegnativo. Allora, Ghazali, 1058-1111, filosofo persiano L'incoerenza dei filosofi Prima stampa Beirut nel 1927 in arabo e in inglese a lavoro nel 1958. L'opera ispirerà la celebre risposta polemica di Averroè La distruzione della distruzione Ghazali condanna 20 opinioni di filosofi di cui 17 considerate innovazioni inammissibili Le tesi eretiche sono 1. Il mondo eterno e senza inizio 2. Il fatto che il sapere di Dio abbraccerebbe solo le cose universali 3. La negazione della resurrezione del corpo Il primo punto, cioè il mondo eterno e senza inizio in particolare contraddice l'idea della libertà creatrice di Dio Su tale base Ghazali critica il principio di causalità per cui cause ed effetti sarebbero necessariamente conseguenziali Cioè il famoso principio causa-effetto, causa-effetto, causa-effetto risalire fino in su, fino alla causa sui, cioè alla causa ultima O prima, che dir si voglia, con l'emma aristotelico Su tale base Ghazali ogni cosa risulta invece connessa soltanto alla volontà di Dio che è sempre libera e imprevedibile In tal modo Ghazali mostra la debolezza della ragione E la sua inapplicabilità a un campo che non sia la dimostrazione matematico-scientifica Come abbiamo detto nella distruzione della distruzione Averroè difende la filosofia dalle accuse appunto di Al Ghazali Ricordiamo che per lungo tempo Averroè è stato considerato un fautore della teoria Della doppia verità, in realtà questa dottrina non si trova nelle sue opere Egli sostiene infatti che esista un'unica verità, quella raggiunta dai filosofi I quali esigono sempre rigorose dimostrazioni fondate sul rapporto causale Quindi assolutamente necessario Qua si può capire la sua distanza La distanza di Averroè da Al Ghazali E l'altra opera Ia Hulum ad Din La rivivificazione delle scienze religiose Prima stampa Beirut 1937 Ma fu composta nel 1100 circa Il testo principale del più importante teologo sunnita Grazie al quale il sufismo Cioè il misticismo islamico Viene legittimato all'interno dell'ortodossia musulmana E a essa informato Ricordiamo che il sufismo viene dal nome della veste di lana In arabo suf dei primi asceti musulmani Lo stato della mistica nell'islamismo è complesso Legato alle contraddizioni il resto feconde Presenti nella figura stessa di Maometto Mistico e statico Che riceve direttamente da Dio la rivelazione E che tuttavia non propone mai come modello queste sue esperienze Ma si esprime soprattutto come grande legislatore politico-religioso Impersonando così un ruolo di leader carismatico Più che di asceta o di uomo spirituale L'esigenza mistica percorre comunque tutto l'Oriente E la rivelazione coranica Accanto ai ben noti e prevalenti tratti cosiddetti teocratici Contiene elementi che tra il VII e il X secolo Vengono sviluppati sino a divenire base di un movimento ascetico-mistico Quale è appunto il sufismo I mistici islamici, come abbiamo detto Tornando ad Al-Ghazali Comprende la rivivificazione quattro tomi Uno, gli atti del culto Due, le modalità di comportamento sociale Tre, le cause della perdizione Quattro, i mezzi della salvezza Ciascuno dei quali suddiviso in dieci libri Il senso escatologico Cioè delle cose ultime Connescata Precarietà dell'esistenza L'invito alla continua preghiera Alla letrania nel nome di Dio Dicr L'abbandono totale a Dio E la conseguente unione mistica con la divinità Appaiono come gli elementi principali Della ricerca spirituale Suffica Alla ma notazione